Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, iniziamo parlando di Giostra del Saracino, Giostra che si correrà il primo di settembre, domenica, ma questa mattina c'è stata l'attesa presentazione della Lancia d'Oro, il trofeo che si contenderanno i quattro quartieri. Quella di settembre è una dedica davvero molto sentita perché è dedicata a San Francesco nell'anno in cui ricorrono gli 800 anni dalle stimmate. È una dedica importante, 800 anni dalle stimmate di San Francesco rappresentano per tutti noi italiani, ma per tutto il mondo cristiano, un punto fondamentale. È un sindaco di Arezzo visibilmente emozionato, quello che presenta la Lancia d'Oro dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco per la 146esima Giostra del Saracino. Ed è un po' curioso che una Lancia, che è poi uno strumento atto a offendere, un'arma, venga dedicata al più pacifista dei nostri Santi, ma è corretto, è corretto. Il sottotitolo della Lancia è Dalle ferite, quindi dal sangue la nuova vita. E quindi è un modo di affrontare un momento storico come questo attraverso il nome di Francesco, anche attraverso questa dedica. Le stimmate non sono soltanto un segno di dolore, di passione, che si avvicina alla passione, al dolore di Cristo. Sono il segno per Francesco di una conformità. Tutta la vita di San Francesco è stata la ricerca, l'espressione del desiderio di assomigliare il più possibile a Gesù, fin dalla conversione, che avviene proprio mediante l'abbraccio a questo lebroso. Ciò che mi sembrava amaro mi si trasformò in dolcezza d'animo e di corpo, dirà poi, parlando della sua conversione. Quindi le stimmate arrivano alla fine, arrivano quasi a conferma di aver camminato giusto, di aver seguito la via giusta che è quella del Vangelo. Vangelo che comprende la via, sì, della povertà, della semplicità, ma anche dell'amore per le creature, dell'amore per l'umanità, della misericordia, del perdono. E non ultimo, il Vangelo è un annuncio di speranza. Noi l'anno prossimo celebreremo il Giubileo, appunto, che Papa Francesco assaggiamente ha voluto dedicare, la speranza, una speranza che non delude e che, credo, San Francesco possa tradurre con la sua vita i suoi esempi anche nel nostro tempo, nella nostra città. Il trofeo è stato presentato, come sempre, nella sala del Consiglio Comunale, se lo contenderanno i quattro quartieri, il primo di settembre, in Piazza Grande, a realizzarlo, le mani esperte di Francesco Conti. Il serafino che dà le stimmate, la rosa che è una particolarità molto interessante sulla rappresentazione francescana, il tau di dietro, che sono i simboli prettamente francescani. Poi c'è la parte di sotto, che è legno di noce, di noce che rappresenta, idealmente, un bastone di San Francesco, dove lui, nelle sue passeggiate, passeggiate, possiamo dire che dopo le stimmate, si appoggiava. E questo è una materia, come ho detto, di noce, molto antico, circoscritta da questi colori rossi, così, che potrebbero essere la tunica o un sangue. e poi si sale, si va nella parte superiore. Anche questo è un legno di noce che viene dalla Valle Santa, un bastone, possiamo dire, francescano, che poteva essere all'epoca di San Francesco, dove andavano a camminare i francescani. E sempre in tema di giostra, è cominciata proprio questa mattina la vendita dei biglietti, la vendita libera dopo il click day, presso il percorso espositivo I Colori della Giostra. Si potranno acquistare massimo quattro biglietti a testa, sia per la giostra che per la prova generale. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 19, ma ci saranno delle eccezioni. Domani, domenica 25 agosto, in occasione della cerimonia dell'estrazione delle carriere, l'apertura sarà dalle 13.30 alle 19 e ci sarà un'estensione invece fino alle 21.30, proprio nella giornata di venerdì 30 agosto, in concomitanza appunto con la prova generale. Dalla giornata poi di lunedì 26 agosto, dalle 9 sarà aperta anche la vendita online. E siamo adesso alla cronaca, un incidente stradale questa mattina, visto coinvolto un uomo di 87 anni nel comune di Capolora, intorno alle 7, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha perso il controllo della sua auto per causa in corso di accertamento ed è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Questo è indubbiamente un fine settimana molto delicato sotto il profilo del traffico delle principali arterie perché come sappiamo è insomma uno dei fine settimana più importanti per il controesodo estivo, un weekend da bollino rosso, quello in corso, segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Per il territorio aritino è ancora in vigore uno speciale piano per le maxi emergenze voluto dalla centrale 118 nelle principali arterie di comunicazione. Il tratto A1 che è il nostro tratto di competenza va dal casello Valdichiana al casello di Incisa Valdarno per un complessivo di circa 65 km di autostrada nelle due direzioni, quindi se andiamo a moltiplicarlo arriviamo oltre 130 km. Poi l'Ai45 che nella nostra zona è usata tantissimo per recarsi nelle zone di vacanze del Adriatico e poi anche sulla Perugia Bettolle che comunque interessa un tratto anche della nostra provincia. Ecco, chi sarà presente e soprattutto quanti uomini, quanto personale sarà impiegato? Più che l'incremento del numero di personale che comunque c'è il gruppo Maxi Emergenze che ha in pronta disponibilità a dare supporto alle persone, agli operatori che già sono in turno, ma si tratta di un ricollocamento delle risorse in caso di evento. Ad esempio, in caso di incidente in autostrada, oltre all'invio dei classici mezzi di soccorso per soccorrere le persone infortunate nell'evento, vengono avvicinate ai caselli interessati, quindi a monte e a valle dell'evento stesso, delle ambulanze. Questo per dare supporto anche alle persone che rimangono in coda perché essendo giornate da bollino rossi, da bollino nero, in pochissimo tempo si possono accumulare code di diversi chilometri. Quindi è nostro dovere anche prendere in carico queste persone che rimangono bloccate e al cui interno dei mezzi ci sono famiglie con bambini, persone anziane, cardiopatici e quant'altro. Quindi questo è il nostro compito e le ambulanze avvicinate ai caselli danno sia un punto di riferimento alle persone che hanno difficoltà ad entrare in autostrada, ma anche a quelle che già sono in autostrada che eventualmente abbiamo la possibilità di dare una risposta in minor tempo. E sempre dal 118 arrivano preziosi consigli per chi deve mettersi in viaggio. Di portare sempre con sé in macchina quando affrontiamo dei viaggi l'acqua. L'acqua non importa che sia calda, che sia a temperatura ambiente, non importa, ma reintegrare i liquidi che perdiamo è una cosa importantissima e fondamentale. Non bere, non fare uso di sostanze alcoliche perché questi oltre che a diminuire i tempi di reazione e la lucidità già compromessa per le alte temperature aumentano anche la sudorazione stessa. E quando possibile, in caso di coda, quando possibile fermarsi nelle aree di sosta anche per pochi minuti o nelle aree di servizio per appunto staccare un attimo la spina, rigenerarsi per poi ripartire più freschi, più concentrati per il proseguo del tragitto. Ecco, un'ultima cosa l'aggiungo io, spesso e volentieri ci sono dei microtamponamenti proprio nelle vicinanze, addirittura anche nella corsia opposta di un incidente, perché, lo dobbiamo dire, ci sono anche i curiosi. Sì, sì, spesso i microtamponamenti, infatti quando ho detto che avviciniamo ambulanze a monte e a valle dell'incidente è proprio per questo, perché spesso i microtamponamenti si verificano anche a causa di rallentamenti per curiosi nella corsia opposta a quella dell'incidente principale e questo va ancora di più ad sovraccaricare il traffico del tratto autostradale e il nostro lavoro è quello della polizia stradale, dei vigili del fuoco e di tutti gli altri enti. Al rientro dalle vacanze si torna a pensare anche alle bollette, insomma un pensiero che sicuramente non ci ha lasciato mai, ma di fatto probabilmente durante le vacanze si prova un po' ecco così ad allentare la presa in realtà insomma c'è da stare molto attenti perché da quando è scattato lo sappiamo dallo scorso luglio è entrato in vigore il mercato libero le truffe sono davvero dietro l'angolo e allora ci sono i consigli di Feder Consumatori. Due giorni fa l'autorità garante ha comunicato alla nostra associazione a Feder Consumatori Arezzo di aver combinato una sanzione di 100.000 euro per comportamenti non corretti nei confronti di tutta una serie di utenti. La sanzione è stata combinata grazie alla segnalazione di Feder Consumatori Arezzo e si aggiunge all'altra sanzione di 1.500.000 euro già stata combinata a dicembre 2023 sempre la solita società una sanzione combinata sempre grazie anche alle segnalazioni di Feder Consumatori Arezzo. Ancora una società del settore energetico che è stata multata per comportamento scorretto dopo la segnalazione da parte di Feder Consumatori Arezzo. È indubbiamente ancora una giungla il settore appunto dei fornitori di energia e gas nella quale è difficile muoversi da ricordare che i soggetti cosiddetti vulnerabili hanno ancora diritto a rimanere nel mercato tutelato. Il passaggio al mercato libero è stato ovviamente destabilizzante per le persone più fragili. È vero che le persone più fragili hanno diritto a rimanere nel mercato vulnerabili che ricordiamo ad oggi è comunque il mercato più conveniente in assoluto. Altro mercato conveniente abbiamo detto sin da subito è il mercato a tutele graduali ovvero sia per le persone che non avevano i requisiti per rimanere nel mercato vulnerabili quindi se non optavano per un operatore del mercato libero venivano transitate automaticamente nel servizio a tutele graduali. Ecco abbiamo riscontrato nuovamente che il servizio a tutele graduali ha dei costi che addirittura sono leggermente inferiori al servizio vulnerabili. Ricordiamo che ad oggi il costo del servizio vulnerabili è nettamente più conveniente rispetto al mercato libero e questo è importantissimo perché le persone vengono bombardate tutti i giorni dagli operatori economici dai call center per convincerli della bontà del passaggio al mercato libero. Ebbene non è così. Se andiamo a guardare i prezzi di oggi le offerte sfogliamo le offerte dei maggiori operatori di energia anche oggi il servizio vulnerabili e il servizio a tutele graduali sono più convenienti. C'è qualcuno che ha preso di mira il campo sportivo La Fornace di Ponte alla Chiasa. A parlare sono i dirigenti della polisportiva Stella Azzurra dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie. Nelle scorse ore hanno infatti subito l'ennesimo danno appunto al campo sportivo di loro proprietà. Dallo scorso anno dicono nei mesi estivi è un susseguirsi di atti vandalici abbiamo subito anche un furto. Ieri mattina all'ennesimo episodio qualcuno con una mola ha danneggiato l'impianto di irrigazione siamo rimasti senza acqua. Purtroppo non è la prima volta il campo nelle stagioni calcistiche viene usato da molte squadre. Adesso la dirigenza ha deciso di sporgere denunce e di fare una segnalazione anche al consorzio di bonifica. A Cortona ha preso il via l'edizione 2024 di Cortona Antiquaria. È partita l'edizione numero 62 di Cortona Antiquaria fino a domenica 8 settembre uno scrigno d'arte tutto da scoprire al centro convegni Sant'Agostino di Cortona. È una mostra appunto che lancia Cortona nel mondo Cortona ricorda la città delle botteghe degli artigiani degli artisti e meglio dell'antiquariato che rappresenta appunto il nostro passato non ci può essere null'altro quindi siamo davvero soddisfatti ma sono credo soddisfatti anche gli operatori e gli stessi antiquari che ringrazio. Quest'anno l'evento è abbinato alla mostra Il Mestiere delle Armi visibile anche nella chiesa di Sant'Agostino e nello spazio di Via Guelfa. Quest'anno in particolare abbiamo pensato a questo binomio con la mostra e quindi grandi opere d'antiquariato insieme ad una collaterale che riguarda sempre l'antiquariato ma una donazione fatta all'Accademia Etrusca al MAEC dall'ex sovrintendente Metzke che raccoglie delle armi storiche che vanno dal XVI secolo fino al XVIII secolo quindi una mostra particolarmente interessante particolarmente ricca che vuole raccogliere anche la storia di un passato glorioso di Cortona e soprattutto anche la trasformazione nel modo di combattere quindi proprio qui c'è il passaggio che va dalle armi da taglio fino alla polvere da sparo quindi le armi da fuoco quindi un aspetto anche interessante per gli amanti e cultori di questo tipo di arte. Il premio Cortona Antiquaria quest'anno andrà a Pier Gramegna. È considerato un caso editoriale che ha meritato l'introduzione di Simona Aviciani voce italiana di Charles Bukowski un successo spontaneo libri letteralmente a ruba e ristampe parliamo dell'inquieto vivere il libro di Andrea Bindi che avrà la sua prima ad Arezzo sabato 7 settembre alle 18 presso il parco di via Giovanni Acuto l'autore incontrerà il pubblico e i lettori in una presentazione che si annuncia carica di emozioni l'incontro chiude la programmazione di Zenzero Off la rassegna letteraria promossa dall'associazione officina rilancio Arezzo e adesso invece ci spostiamo in Valdichiana perché domani domenica 25 agosto ci sarà un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati dell'usato la carica degli appassionati dell'usato sta per tornare a Monte San Savino domenica 25 agosto saranno 120 i banchi che si snoderanno nel centro della cittadina della Valdichiana per la versione outdoor del grande mercato delle pulci una giornata all'insegna del riciclo e del riuso dalle 9 alle 19 in collaborazione con il cenacolo degli artisti Aretini la proloquo e il comune di Monte San Savino ci sarà anche la fiera dell'arte nel palazzo comunale per agevolare il traffico visto che la manifestazione sarà nel centro storico del paese è stato predisposto un servizio di navetta gratuita dallo stadio comunale delle fonti dalla zona industriale e dalla zona della Gora all'orizzonte poi un altro imperdibile appuntamento stavolta lo scenario sarà Ponte Buriano con Art in Ponte una manifestazione dedicata questa volta al land made e al vintage arricchita dalla festa degli aquiloni ad ottobre tornerà poi la versione più attesa del grande mercato delle pulci con gli oltre 600 banchi che affolleranno il polo fieristico di Arezzo quattro padiglioni per i banchi dell'usato dedicato agli svuotasoffitte i privati cittadini e due padiglioni dedicati al vintage al collezionismo passando per l'antiquariato le iscrizioni apriranno il prossimo 27 di agosto e siamo allo sport l'Arezzo tra poche ore affronterà la prima di campionato allo stadio comunale di domani domenica 25 agosto alle 20.45 arriva il Campobasso intanto partiamo da questo primo servizio parlando proprio con uno dei main sponsor la 1AR che ha rinnovato la sua fiducia appunto al progetto Arezzo ecco continuare a credere in questa squadra insomma come diceva anche il presidente non è proprio per nulla scontato no non è scontato nel calcio lo è ancora meno perché le strategie nel mondo calcistico non è semplice mantenerle costanti e in continuità devo dire che la società sta dimostrando segni di solidità a me quello mi rassicura ci rassicura ed è uno dei motivi per cui abbiamo continuato un po' questa partnership i valori sono quelli giusti la retinità un'R è un'azienda che fra poco compierà i suoi cent'anni e questi cent'anni li ha vissuti in un territorio che gli ha dato molto noi abbiamo dato molto e il calcio fa parte di questa situazione di questi valori appunto che esprime il calcio che non è sullo sport ma passione quindi su questo ci crediamo l'affidabilità sembra ci sia la trasparenza che nel calcio non è così sempre scontata vediamo vediamo noi ci crediamo e sono convinto che potremmo essere anche ambiziosi però come ho detto prima in conferenza l'importante che si faccia le cose con equilibrio 1R come riparte in questo settembre dove il prezzo dell'oro lo sa meglio di me sta schizzando alle stelle però il settore aretino tiene allora 1R tiene molto bene il primo semestre è stato un buon semestre naturalmente ci sono tante nubi all'orizzonte gli scenari geopolitici sono abbastanza difficili e questo si riflette nel prezzo dell'oro non solo quello però ci sono delle dinamiche importanti in questo mondo e l'oro rappresenta un bene non solo rifugio tutti si parla di bene rifugio ma è un bene finanziario e quindi come tutti gli asset finanziari soggetto a queste diciamo speculazioni ma anche domande eccessive forse talvolta questo si riflette anche nel mondo dell'orificeria in una situazione dove il prezzo tende a salire non sempre il mercato risponde come vorremmo perché ci sono dei buyer ci sono dei mercati che rimangono molto prudenti e quindi questo non è sempre positivo quando il prezzo sale vediamo Vicenza sono positivo e oggi in conferenza stampa invece mister Troise sentiamo che cosa ha detto abbiamo sfruttato il turno di Coppital il passaggio del turno come ho detto ai ragazzi per lavorare con quell'entusiasmo quell'autostima al fronte appunto di questo risultato ma allo stesso tempo consapevoli che comincia il campionato consapevoli che analizzando nelle varie sedute dobbiamo dobbiamo alzare il rendimento sia individuale che collettivo perché ci aspetta una prima una prima di campionato importante perché la giochiamo in casa perché ci teniamo ad esordire chiaramente con una percentuale alta di poter raggiungere il risultato pieno ma allo stesso tempo di fronte un avversario sappiamo allenato da un allenatore molto esperto e dove ha dimostrato in tanti anni che le sue squadre per per batterle c'è bisogno di una partita notevole quindi ci siamo allenati un po' su tutti i fronti perché comunque dal sistema tattico potrebbe cambiare sotto l'aspetto difensivo è una squadra che ti concede poco quella di Braia a livello offensivo alterna quindi ci sono ci sono tanti dettami che ci hanno messo di fronte ad una settimana con varie richieste allo stesso tempo analizzando la partita contro l'Ascoli prima accennavo di rendimento ad alzare perché in diversi periodi di gara secondo me siamo calati e quindi ho fatto notare loro che se vogliamo essere competitivi e vogliamo fare una partita importante dobbiamo rimanere più costanti in quelli che sono i 90 più recupero è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione arrivederci a Autore dei sorrisi